Due anni fa eravamo in questo stesso punto, a stagione in apertura, era gennaio, insomma si dovevano aprire le piste con una neve fantastica e a causa del Covid le piste rimasero chiuse. Quest'anno finalmente si torna alla normalità? Sì assolutamente, è un contesto completamente diverso rispetto a due anni fa, fortunatamente quest'anno le nevicate sono arrivate copiose, le piste del comprensorio sono veramente in grandissime condizioni e vogliamo andare avanti. Sì è stato veramente due anni se vogliamo drammatici per il nostro comparto neve, ma quest'anno ci sono veramente tutti i presupposti per una grandissima stagione. Ecco, avevate chiesto dei ristori, come ha risposto comunque lo Stato a quella che era la situazione durante l'emergenza sanitaria del vostro settore? Sì, lo Stato ha già stanziato questi ristori, ci hanno sicuramente aiutato a ripartire e a continuare a programmare tanti investimenti che fa Prato Nevoso e tutte le stazioni sciistiche per rimanere sempre all'avanguardia e essere sempre in prima linea. Il turismo che è arrivato in queste giornate secondo voi è lo stesso di tre anni fa? Assolutamente no, due anni fa nonostante tutte le restrizioni ci fu veramente un discorso più psicologico legato alla paura della gente, adesso è ripartito tutto l'indotto turistico italiano e soprattutto straniero che ci voleva sicuramente. Natale alle porte, ovviamente quindi sono le date giuste del turismo, che cosa offre Prato Nevoso? Allora, Prato Nevoso è una località turistica sempre dinamica e attenta in maniera trasversale a tutte le tipologie turistiche, quindi dalla famiglia con il nostro parco giochi, le tante scuole di sci ma anche per i giovani, tanti eventi tra cui Capodanno in programma la notte di San Silvestro dove ci aspettiamo tante persone e che ha reso un pochettino nota la nostra località per i giovani. Sempre lo sci notturno e lo snow park che ospiterà molti eventi durante il corso della stagione.